Detto questo, io ripeto che l'immigrazione regolamentata e qualificata è un valore aggiunto positivo. L'immigrazione numericamente controllata è un innesto positivo per qualsiasi società, compresa quella italiana. Quella che combattiamo non è l'immigrazione to-cour, è l'immigrazione incontrollata e senza regole. L'immigrazione sul modello svizzero, canadese, australiano, tedesco, è un'immigrazione positiva. L'Italia ha l'anarchia, l'Italia ha il caos, quindi il caos non porta aiuto né a chi arriva né a chi qua è. E infatti molti dei nostri ragazzi sono costretti a scappare, perché chiudono mediamente 120 aziende al giorno, anche sotto l'era di sua maestà Renzi chiudono 120 aziende al giorno, oggi stanno chiudendo 120 aziende. Quindi è chiaro che l'immigrazione italiana e soprattutto lombarda, dove la crisi si fa sentire in maniera assolutamente pesante, sarebbe la prima controimmigrazione da riattirare in casa. Però non penso che le leggi nel Jobs Act, nelle normative sull'articolo 18, penso che Renzi in politica economica non stia azzeccando una. Sarà simpatico, farà i tweet, mangerà i gelati, si metterà i maglioncini colorati, ma in politica economica non sta beccando una neanche per caso, è sfortunato.